Non aveva la patente perché gli era stata ritirata. Il 19enne Diomegna è arrestato ieri sera a Baveno dai carabinieri di Stresa dopo un inseguimento. Ancora una volta un'auto che non si ferma all'alt, conducenti che fuggono a velocità folle e con rischi per tutti. Intorno alle 20, i militari del maresciallo maggiore James Lou, impegnati in un controllo lungo la statale 33, hanno intimato a una Golf nera di fermarsi. L'auto però è ripartita in direzione di Ferriolo, imboccando poi la strada che porta all'acquapark. Lì però il conducente ha perso il controllo ed è finito contro un muretto. I tre occupanti sono fuggiti a piedi, due sono stati acciuffati poco dopo dai carabinieri, uno è stato rintracciato più tardi. I primi due, maggiorenni, sono entrambi omenesi. Il conducente guidava senza patente, mentre il passeggero è già noto alle forze dell'ordine. Il minorenne di Baveno era invece in possesso di una modica quantità di stupefacenti. Per il giovane al volante è scattato l'arresto per resistenza e gli altri due sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato.